Siamo in libreria, prof, dalla radio a Crotone Informa, ma il concetto è sempre quello di cercare un'intimità, tant'è vero che oggi presentate dei dialoghi intimi. Sì, stasera presentiamo Teatro Intimo, verrà rappresentato dalle Magipantus che vengono da Bologna. Allora, il Teatro Intimo è una sorta di teatro-terapia tratta dal libro rosso di Jung, quindi è un discorso molto complesso alla ricerca dell'anima femminile. Un laboratorio complesso, un percorso complesso. Comincia, per Crotone Informa, a introdurcele queste officianti. Officianti dell'anima, potremmo definirle così. Sì, quattro splendide donne che hanno fatto un percorso di vita molto intenso, da cui poi hanno tratto delle risposte. Che tipo di risposte si possono avere da laboratori teatrali, culturali, da incontri dell'anima? Allora, voglio specificare una cosa. Noi non siamo attrici, no? Interpretiamo noi stesse. Quindi il lavoro che è stato fatto dalla lettura di Jung è un lavoro introspettivo, ma anche di condivisione. Condividere tra noi e poi condividere con chi ci ascolta. Quindi si impara a conoscersi attraverso le letture e poi si cerca di conoscere chi ci sta attorno. Un gioco, oserei dire, assolutamente poco contemporaneo in questo momento? Ma in realtà noi siamo partite da incontri in cui abbiamo cercato di riflettere, pensare, giocare alla ricerca delle qualità della femminilità. Poi a un certo punto dalla ricerca sono uscite delle considerazioni, delle frasi che abbiamo pensato potessero essere la traccia per una comunicazione leggera ad altre. Leggera? Poi con Jung è un po' particolare, però ai giovanissimi bisogna anche insegnare che il gioco della cultura è forse il gioco più affascinante. Ma leggendo bene e profondamente Jung e sperimentandolo la leggerezza è inevitabile. E come diciamo noi è la vita che ti conduce e quindi noi ci siamo fatti condurre dalla vita e siamo diventate leggere, abbiamo delle proposte leggere, soprattutto per i giovani. Noi questo lo riscontriamo anche nelle altre esperienze che abbiamo avuto di rappresentazione e la cosa che ci ha colpito moltissimo era proprio queste ragazze giovani, cioè non della nostra, diciamo, età, che sono venute a ringraziarci perché hanno trovato nel nostro testo una leggerezza che è come una sorta di salvadanaio, che è un tesoretto per il futuro, per loro. Un tesoretto che serve soprattutto per rendere leggeri gli uomini? Questo è un lavoro che dovrebbe servire, anzi servirebbe, serve anche agli uomini. È un lavoro dell'anima in realtà e l'anima io direi che è universale e le risposte che ognuno di noi cerca in realtà non hanno tempo e sono forse anche, adesso devo dire in modo sorprendente, però secondo me il percorso che sembra così difficile in realtà è elementare, nel senso che è la vita che ce lo fa fare, è il percorso della vita e quindi vivendo impariamo e impariamo e apprezziamo e godiamo. Già intraprendere un percorso, che non sia quello del proprio orticello, è una rarità assoluta. Cos'è il percorso nel 2019? Un capire che non siamo delle isole, che non siamo dei soggetti isolati, ma siamo parte di un tutto e questo forse è proprio il messaggio che bisogna cogliere. Io direi anche adesso noi interpretiamo Jung, abbiamo provato a interpretare Jung, ma io penso che sia un messaggio che si può cogliere in tutti quei pensieri, anche religiosi o filosofici più in generale, che hanno cercato di indirizzare l'umanità per una convivenza più civile, per una convivenza più umana. In realtà non c'è bisogno, basterebbe che ognuno di noi si guardasse attorno, che ognuno di noi contemplasse la propria umanità, che è quella di tutti e quindi è veramente un percorso che è per tutti e lo condividiamo. Sotto questo aspetto mi viene in mente che il percorso dovrebbe essere declinato al femminile, perché è la mamma che inizia un percorso, il percorso di vita. Beh, non è solo la mamma, ci sono anche i padri e di questo ne parleremo, perché hanno un ruolo molto importante. Secondo me non c'è una così grande ingerenza, perlomeno questa è la mia esperienza, della figura materna, del condizionamento della figura materna per quanto riguarda il mio percorso di vita, la mia storia. Anzi direi che è stata la figura maschile che apparentemente ha condizionato maggiormente il mio percorso, per portarmi a riconciliare con la madre, quindi a riconciliare con me stessa, a riconciliarmi con me stessa e anche a vedere il mio ruolo di madre in una maniera diversa, come non così scontato, ma appunto essendo la vita che ti conduce e che ti insegna, è la vita che ti insegna ad essere madre. Che percorso vi ha portato poi tutti e quattro insieme? Ma è stato in realtà un incontro quasi casuale, abbiamo seguito le proposte della nostra coordinatrice, che è Giovanna, e abbiamo iniziato un lavoro di ricerca sulla possibilità e modalità di crescere, di acquisire consapevolezza in vari modi, giocando, usando la percezione sensoriale, usando le emozioni. E alla fine, alla fine no, in questo momento del percorso c'è questo testo, poi come andrà avanti non lo sappiamo. Di fatto è stato un incontro, ripeto, è stato casuale, ma che poi ha portato una nota di amicizia, di allegria, di condivisione nella nostra vita. Se dovessimo tramutarlo a un percorso musicale, questo viatico dove porterebbe? Oddio, noi usiamo la musica. In questo nostro lavoro abbiamo proprio scelto di accompagnare le nostre parole, i nostri pensieri con la musica. Perché la musica è vibrazione, suono, è un accompagnamento comunque che aiuta anche a sentirsi vivi. Quindi noi siamo in un punto preciso della vita, che è un momento prezioso, è la seconda metà, e da adesso in poi ce la vogliamo godere al massimo, insieme, insieme agli altri, alle persone che ci sono vicine e possibilmente al resto del mondo. Ora è la solitudine.